L'app MyRenault dispone di un servizio molto utile che risulterà subito indispensabile, trovare la propria auto. Questo servizio è molto utile nel caso dimentichi il punto in cui è parcheggiata l'auto, in quanto può localizzarla sullo smartphone. Per utilizzare il servizio devi innanzitutto sincronizzare l'app MyRenault con il veicolo. Il servizio localizza automaticamente il veicolo, mostrando l'indirizzo in cui è parcheggiata l'auto e fornendo il percorso per raggiungerla. Con questo pulsante puoi aggiornare le informazioni sulla posizione del veicolo. Lascia che il servizio ti faccia da guida conducendoti dritto al veicolo. Quando selezioni questo pulsante viene visualizzato il percorso in Google Maps. A questo punto conosci il servizio di navigazione intelligente Trova la mia auto, progettato per facilitare la navigazione di ogni giorno. Fai buon viaggio! Grazie a tutti!